Ma se mi dici quanto mi piaci, sento solo voglia di sentirmi tua. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che stupida sarei, mille volte morirei per averti una notte ancora. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che stupida. Ti perdonerei anche se non cambierai. Il mio sentimento non si arrende mai. Il mio sentimento non si arrende mai. E ringraziamo nuovamente la nostra band, ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati con noi in queste 15 puntate di Mille Voci. Ringraziamo tutti i cameraman, i tecnici, i fonici, le luci, tutti coloro che si sono prodigati per rendere questa trasmissione così grande. Tutta la regia, il nostro patron Gianni Turco! Grazie Gianni! E proprio per quest'ultima puntata, il nostro Cesare! Vieni Cesare! Portata bene? Eh, capito? Ah, si brinda! Si brinda! Si brinda! Vai là! Vieni Cesare, vieni! Mettiti qui accanto a noi, accanto al tavolino, lascialo qui. Vieni, mettiti. Allora, chiamiamo tutti i nostri ospiti, venite, venite! Tutti, tutti! Anche chi è fuori, venga, venga! Venite! Venite con noi! Dobbiamo... Eh, guarda quel signore! Guarda quel signore! Dio! Ma è lui, eh! Gianni Turco! Vieni, vieni! Non è solo una voce! Bravo, bravo, bravo! Grazie Gianni! Cesare! Allora, aspetta, aspetta! Ma perché baci solo le donne? Ci sguassa lui! Perché è brava, quell'altra bella, quella... Eh! A me la carne di porco! Eh! Allora, io la devo dire! Va a dirla tutta, dai! A parte la tecnica, perché, insomma, si sa, se ognuno fa il proprio lavoro per bene, esce fuori quello che avete visto, un ottimo risultato! Ma, insomma, la scoperta vera e proprio, quest'anno è una! Sì? Duffer, va in là! Confermo! Grazie a te! Con la collaborazione, con l'aiuto, con la partecipazione di Gabriele Marconi! Ma si sa che Gabriele è veterano! Vai! Montecarlo, la 7, la 8, la 9, la 10! Che dice mai questo? Lo parla Alberto Sordi! Quanto contava? Tredici! Tredici! Quattordici! 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 Quanto a quelle che si fanno a fare loro! Quindi, bravi! Grazie! Grazie a te! Questa è un'edizione che, insomma, avrà il successo migliore! Che merita! Che merita! Perché Mille Voci è una bella... È una bella trasmissione! Perché ci siete state voi due! Grazie! Grazie a tutti voi! Ricordiamo, ricordiamo a Morena Rosini che l'anno scorso ha dato anche la sua collaborazione! Ecco, vedi, sta vicino a noi! Eccoci! Eccoci! Allora, il nostro... Adesso bisogna stappare questa bottiglia! Adesso è vero, Cesare, qualcuno ha il suo lavoro! Fallo fare all'esperto! E mentre il nostro Cesare stappa la bottiglia e noi... È arrivata l'ora Sembriagamo! Salutiamo i telespettatori! Ci vediamo alla prossima edizione! Leva il tappo! Leva Brunetta! Leva Brunetta! Leva Brunetta! Attenzione! Sigla! La sigla di Mille Voci! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te! Mille voci per cantare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione! Mille voci, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è! Mille voci per cantare, mille voci per cantare, mille voci è un'emozione! per cantar, mille voci, per sognar, mille voci, tutte insieme a te, mille voci, sono qui per te. Mille voci, per cantar, mille voci, per sognar, mille voci, è una canzone, mille voci, è un'emozione. Mille voci, per cantar, mille voci, mille voci, per sognar, mille voci, mille voci, è una canzone, mille voci, mille voci, è un'emozione. Mille voci, mille voci, è tutto quel che c'è. Grazie a tutti, grazie!